Il terzo mandato di Filippo Bongiovanni come sindaco di Casal Maggiore inizia con una forte apertura anche verso le minoranze. Hanno votato mille persone in meno rispetto al 2019, ha detto il sindaco nel suo discorso di insediamento dopo il giuramento, e questo non è un buon segnale, al di là delle motivazioni. E il voto ci ha consegnato una città spaccata in due. Dobbiamo essere il traino del territorio casalasco e per questo chiedo unità e collaborazione a tutti, a partire dalle minoranze, specie sui più grandi temi. Un'apertura accolta da Luciano Toscani, divenuto consigliere di minoranza per uno scarto davvero minimo, 46 voti. Apprezziamo, ha detto Toscani, come gruppo il cambio di registro da parte del sindaco che cinque anni fa aveva insultato, gli oppositori ora invece guarda avanti. È un ottimo inizio, anche perché il consenso è stato perso, per buona parte. Per collaborare bisognerà passare dalle parole ai fatti, ma noi siamo pronti. Toscani ha chiesto di istituire per cominciare uno spazio in comune per le minoranze perché possano ritrovarsi e avere stretto contatto con segreterie e uffici per l'analisi dei documenti. Inoltre, ha promesso parecchie proposte che ci auguriamo, ha detto Toscani, vengano vagliate. Luigi Borghesi, altro consigliere del gruppo Toscani, ha apprezzato l'apertura del sindaco e chiesto unità e impegno, in particolare per l'ospedale di Upo, evidenziando l'episodio di una signora che, ricoverata a Bozzolo, non ha visto rinnovare il proprio periodo di degenza perché Bozzolo è sotto Mantove, la signora di Casal Maggiore. Un'anomalia, ha detto Borghesi, evidenziando la necessità di un ragionamento più territoriale che deve finire. Tra le novità emerse da un primo consiglio che, come tutti i consessi di insediamento, passa da molti punti formali, l'assenza di Marco Ponticelli, che infatti si è dimesso da consigliere lasciando il posto a Roberto Madesani. Questo perché lo stesso Ponticelli tornerà presidente di azienda farmaceutica municipale. E ancora la conferma di Pierfrancesco Ruberti come presidente del Consiglio, con Alessia Tascarella come vice, la nomina delle varie commissioni, affari istituzionali, urbanistiche e bilancio, e la richiesta di Toscana di creare anche una consulta per i giovani. Infine, l'attesa votazione per il CDA della RSA Busi. Bruna Masseroni sarà presidente, eletta all'unanimità nel CDA, Maria Luisa Veronesi, già all'Aragona di San Giovanni, Gianpaola Brozzi e Federico Acquaroni per la maggioranza, la presidente uscente, Roberta Bozzetti, indicata invece dalla minoranza. Grazie a tutti.